Finalmente sono arrivati i tre punti attraverso una buona prestazione dei ragazzi, sono molto contento perché alla fine credo che da troppo tempo stavamo dimostrando ed esprimendo un buon calcio, oggi siamo riusciti a fare entrambe le cose nella miglior maniera possibile e infatti sono arrivati i tre punti. Merito ai ragazzi, questo deve essere un punto di partenza perché probabilmente mi auguro che questa vittoria abbia dato una grossa emozione di fiducia. Stiamo soffrendo, lo si vede da tutte le prestazioni che facciamo perché ripeto abbiamo ancora delle difficoltà nello schierare tutti gli uomini a disposizione, oggi eravamo in emergenza assoluta perché comunque avevamo tanti 2000-2001 in panchina della Juniores, però questo credo che sia un premio giusto, arrivato nel momento giusto per la squadra e per i ragazzi e per la società che sono merita. Beh, realizzandola credo che ci assumiamo le pene responsabilità di una prestazione del genere. Purtroppo non abbiamo nessun alibi, siamo entrati in campo spenti, molli e forse nella testa qualcosa stavolta non ha funzionato. Ci riuniremo martedì per cercare di trovare la chiave di questa pessima prestazione. Guarda, è vero, alla fine si sa, nel calcio ci sono gli episodi che fanno una differenza. Nel giro l'episodio ci è stato sfavorevole, è vero che è stata una pessima prestazione, però a livello di occasioni non mi pare che ne abbiamo subito così tanto. Io parlo a livello di approccio alla gara e di prestazione, penso che è venuto a mancare lo spirito delle scorse partite, infatti poi alla fine, come si è visto, gli episodi poi alla fine ti girano contro. Però, ripeto, nessun dramma, si stanno i scivoloni durante il corso dell'anno. Siamo all'inizio, abbiamo ancora bisogno di lavorare, noi eravamo fenomeni ieri e non siamo diventati dei brocchi adesso. Ecco. 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 Ecco.